Veniamo ad abitare qui, vero mamma? Io penso che abbiamo scelto il posto ideale per vivere. Sembra un'infiltrazione. Quell'acqua nasconde un terribile segreto. Spagno tu. Smettila! Smettila! Con cui stai parlando? Con nessuno. Sta dicendo che Sassi ha un amico immaginario. Suo marito sostiene che lei soffre di paranoia con allucinazioni. Diario! Diario! Dark World. Venerdì alle 21.10. A seguire Wonderland, il magazine di cinema. E Grano Rosso Sangue, solo su Rai4.